John Bourne ragazzi, John Bourne e benvenuti in questo nuovo video, in questa giornata popopopopo de merda del Blue Monday, il giorno più triste dell'anno, oggi pomeriggio barra sera, stasera si sono giocate due partite fondamentali per il futuro di questo campionato, il Milan ha affrontato lo Spezia e il Napoli ha giocato contro il Bologna. Partiamo da quest'ultimo, ma prima di iniziare vi ricordo a iscrivervi al canale se non l'avete fatto, mi raccomando iscrivetevi ora, arriviamo presto a mezzo milione di iscritti perché sto preparando uno speciale veramente bello, vi lasciate tantissimo mi piace mi raccomando e poi fatemi sapere la vostra, semplicemente tipo secondo voi Milan-Napoli in quale posizione arriveranno? Detto questo arriviamo a parlare delle varie partite di oggi pomeriggio, ricordandovi però che dopo diremo qualcosa forse anche sulla Fiorentina, adesso capisco se farne il post partita o qualcosa del genere, però qualcosa la diremo sulla Fiorentina, preparatevi perché qualcosa lo diremo. Fatto sta che il Napoli vince a Bologna e vince con la grande prestazione soprattutto in fase realizzativa del Ciuchi Lozano, alla faccia del fatto che non era capace Lozano, alla faccia del fatto che non lo posso più vedere, perché non lo sapeste ieri abbiamo fatto una diretta ovviamente sull'altra piattaforma, tra l'altro il mio amico Qualt, lui proprio diceva noi napoletani in questo momento Lozano non possiamo più vederlo, non ne butta dentro una manco con le mani E io gli ho detto guarda che Lozano secondo me si è messo in condizione di poter far bene e ti spacca tutto, poi è ovvio che quest'anno con Spalletti per qualunque tipo di ragione stia facendo un po' più di fatica, questo è sotto gli occhi di tutti, però se Lozano è messo in una determinata situazione a mio modo di vedere veramente ti distrugge qualunque cosa Ed effettivamente, effettivamente questo è Lozano, questo è Lozano, oggi Lozano con una doppietta importante va a trascinare il Napoli ad una vittoria fondamentale Una doppietta che arriva da un gol nel primo tempo dell'1-0 che insomma sblocca la partita e anche su quei palloni di Elmas in modo assolutamente consapevole E poi il raddoppio appena inizia il secondo tempo in inserimento, in tapì, come vogliamo chiamarlo, sul pallone di Fabian Che non è che sia un gran gol, non è che sia il gol dell'anno, però lì ci dovevi stare, ci dovevi far trovare pronto ed è un gol che chiude anche i giochi Perché sappiamo quanto Sinisa Mikhailovic sia bravo a rialzare gli animi dopo magari un fine primo tempo Quindi magari ti porti sull'1-0 a fine primo tempo, però poi negli spogliatoi Mikhailovic esce che gioca con il coltello tra i denti E invece questo non accade, perché? Perché il Napoli insomma scende in campo più cattivo che mai Abbiamo rivisto il ritorno in campo di Vittorio Simen, sono contento veramente tanto 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 per lui Con tutte le armature, con tutta la copertura, però se lo merita, oggettivamente se lo merita Questo è stato un ragazzo molto molto sfortunato, che comunque ogni volta che, veramente, e una volta si rompe E una volta si spacca la faccia, una volta gli fanno le gambe, una volta si è Pier Covid E una volta l'Apertosso, e una volta l'Ebola, e una volta è quello e quell'altro, santo cielo Spero veramente di poterlo vedere con continuità, perché credo che Vittorio Simen in questo Napoli Sia un giocatore che possa essere davvero davvero fondamentale È un Napoli che ha comunque le sue assenze, perché ce le ha E gli manca Koulibaly, e gli manca Zambanguissa Insomma la Coppa d'Africa ha un po' decimato il Napoli, che però continua a rodare E io assicuro, ragazzi, che vincere sul campo del Bologna, e io da romanista ne so qualcosa Non è mai, e sottolineo, mai scontato Quindi la vittoria del Napoli è assolutamente legittima e assolutamente valida Per quello che il Napoli oggi doveva fare sul campo di un Bologna Che comunque è sempre più quadrato, a mio modo di vedere E che mi piace in generale sempre di più Poi qualcuno ne parla in modo un po' triste Un po' come posso dire, un po' Koulab, un po' così Un po' come fosse quasi secondario In realtà io non credo questo Io credo comunque che il Napoli Io credo che il Napoli arriverà in Champions tranquillamente Credo che il Napoli arriverà, vi dico la butto lì Nonostante adesso sia terzo, ci arriverà da quarto Io credo ci arriverà da quarto il Napoli L'avevo detto a inizio stagione e lo ripeto adesso Attenzione alla Juventus Forse quella che potrebbe rischiare un po' di più degli altri Nonostante continui a far bene è l'Atalanta Però questo è un mio punto di vista Perché poi qualcuno mi insulta Durante l'anno è sempre così Tu devi fare delle scelte Quindi se tu dici che rimane fuori Vabbè l'Inter sei un folle Se dici che rimane fuori il Milan prende gli insulti Il Napoli prende gli insulti L'Atalanta prende gli insulti Il Napoli prende gli insulti A me non importa degli insulti Io vi dico la mia Io credo che la Juventus possa alla fine dei rifoddraff Arrivare in Champions Se la Juventus arriva in Champions Secondo me arriva terza Se no, terza, ti sai che vuol dire terza Tipo terza che arriva a 70 punti Il Napoli 69 Oppure entrambi 70 E non è che ci sia sta grande differenza secondo me Nei punti che faranno Napoli e Juventus Però ho paura che nonostante poi Ci abbia un punto sulla Juve Ma una partita in meno Ho paura che sia proprio l'Atalanta Alla fine della fiera A rimanere fuori Detto questo però parliamo di Milan anche Parliamo di Milan Ora sul mio profilo Sul mio account Twitter Ho fatto Ho tirato fuori un meme molto divertente Almeno a mio modo di vedere Poi magari faceva schifo Poi qualcuno non l'ha capito Ma vabbè Paragonando un po' il primo tempo di Milan-Spezia A quello che è la vita Nel senso comunque che è un alto e basso È un continuo ricevere Come posso dire Vibrazioni Ma non per forza good vibes Magari Vibrazioni positive e vibrazioni negative Accadimenti positivi e accadimenti negativi E facevo riferimento appunto Al portiere dello Spezia Guardate il primo tempo di Provedel Provedel para tutto Ma anche nel secondo tempo A dire la verità Provedel para tutto Anche le madonne dei tifosi Del Milan da San Siro Che gliele lanciavano dagli spalti Veramente Provedel para tutto Durante la partita avrà parato tre o quattro volte con i piedi Para anche con le braccia Para di riflesso Para con il corpo Provedel ha fatto una partita clamorosa Ma veramente clamorosa E fatto sta che para tutto Ma il Milan c'ha possibilità di passare In vantaggio sostanzialmente Grazie ad un calcio di rigore E il calcio di rigore Con cui il Milan Può passare in vantaggio Lo batte Teo Hernandez Lo batte Teo Hernandez Perché? Perché comunque Perché c'è il Milan di Acedore? Perché Provedel fa una cazzata Esce a Peffratte Esce proprio a cazzo di cane E Provedel Prende in piano Il giocatore del Milan Calcio di rigore Calcio di rigore Che succede sostanzialmente? Succede che va dal dischetto Teo Hernandez E qui c'era un sali C'era uno scendi C'era un sali C'era uno scendi E il sali appunto È le parate Lo scendi invece È appunto il calcio di rigore Ma c'è di nuovo un sali Perché Teo Hernandez Tira di incrociare Ma stavolta sbaglia Stavolta Teo Hernandez Tira fuori Manco il tempo Di risalire Che deve riscendere Perché Nicolau Fa una cappella gigantesca E quindi Leao Viene mandato in corpo In porta Grazia con la deviazione Su pallone di Krunic Da parte di Nicolau Fa un pallonetto bellissimo Provedere lì Non può nulla Ci prova fino all'ultimo Erlic Ma non ci arriva E quindi niente da fare E quindi Milan in vantaggio Nel secondo tempo però Della partita Cambia qualcosa di fondamentale C'è un cambio Da parte dello Spezia Il cambio da parte dello Spezia È quello di Agudelo Entra Agudelo E da lì la partita Cambia Lo Spezia fa una partita Pazzesca A parte che Agudelo Fa gol E il gol di Agudelo Ragazzi È un gol Fantastico Cioè fantastico Fantastico per la Attenzione Agudelo Segna dentro l'area piccola Però è bello anche Per come lo Spezia Riesce a tenere i ritmi alti Secondo me Il pallone dentro Che gli dà Daniele Verde Agudelo è bravissimo A inserirsi E lì c'è anche tanta colpa Secondo me Il gol del pareggio Addirittura Lo Spezia C'ha la possibilità Di andare di nuovo In gol Cosa che però Non riesce Immediatamente Con Agudelo Che sempre fa questi inserimenti Queste incursioni E nel secondo tempo La partita Cambia da così Siaccola Entra Giroud Che se non sbaglio Sbuccia un pallone No forse non era Giroud Che ha sbuccio Chi cazzo era Che ha sbucciato il pallone Forse era Boh Non so Chi era Krunic Cioè uno del Milan Che ha sbucciato un pallone Volevo dirlo Perché mi aveva fatto ridere In quel momentoli Forse Messias E niente di eccezionale E nel finale È pieno di polemiche È pieno di polemiche Perché Perché il Milan Segna Ma il gol del Milan Viene annullato Perché l'arbitro Appena prima Del tiro Con il Del tiro Del Milan Fischia Fischia una punizione Quindi ovviamente Avendo fischiato prima Il gol non vale Però aveva segnato E quindi c'è una polemica Gigantesca Battono la punizione E Provedel Fa un miracolo pazzesco Battono il calcio d'angolo Provedel Para Traversa il Milan Insomma la palla Sembra non voglia entrare E nonostante Il Milan Faccia di tutto Per buttarla dentro Sembra che questa porta Sia Sostanzialmente Demonizzata Sembra che questa porta Sia impossibile Da battere Il Milan Attacca 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 Nel finale ragazzi Abbiamo visto sostanzialmente Un copione unico Un copione unico In cui il Milan Continua a giocare Praticamente in discesa Con lo Spezia Che spera in qualche modo Di portare a casa La pagnotta Cosa che poi Effettivamente Sembrava difficile E niente E niente Però poi arriva Il colpo di scena Pazzesco Il colpo di scena Pazzesco E il gol Dello Spezia Nel finale Al 96esimo Su contropiede Segna lo Spezia E porta a casa E Spugna San Siro Vincendo 1-2 E il Milan Crolla Riscrivendo La classifica Perché poi L'Inter Dovrà recuperare Una gara Fatemi sapere La vostra Con un commento Qua sotto Iscrivetevi al canale Se non l'avete fatto Io vi ringrazio Per aver visto questo video Mi ti ha lasciato tantissimi Mi piace Buon salalale Come sempre Ci ha un prossimo video